ciao ragazzi eccomi qui scusatemi se ve ne sarete accorti ma in queste due settimane non sono riuscito a pubblicare nulla e avevo dei progetti da portare avanti e da farvi vedere ovviamente e spero che nelle settimane prossime riuscirò a portarvele qui nel canale e perché perché purtroppo ogni giorno 25 sono risultato positivo al covi e quindi ho dovuto isolarmi cosa che sto facendo ancora adesso isolarmi totalmente da tutti e quindi non sono riuscito poi a continuare con i lavori che stavo finendo di fare purtroppo è così quindi aspettiamo qualche giorno aspettiamo alcuni altri giorni e vedremo se poi la positività andrà via una volta fatto questo riprenderemo con i video riprenderemo con alcuni video che ho già in cantiere e che già penso di fare però sono qui oltre per dirvi questa cosa ma per augurarvi una buon anno mi raccomando ragazzi buon anno a tutti i ragazzi del canale e che dirvi cercate di trascorderlo al meglio possibile e che quest'anno dai sia migliore dell'anno scorso e speriamo dai che che sia un anno che porti anche tanta fortuna a tutti dai io vi saluto e vi ringrazio ancora tanto è veramente vi saluto tutti quanti e vi mando un grande abbraccio ciao a tutti e ci vediamo al prossimo anno ciao ragazzi